Amici di Teleromagna e di Ruoghi Misteri, eccoci ad un'altra tappa del nostro lungo viaggio che facciamo ormai insieme dalla prima puntata, dalla prima stagione, ricordo che siamo arrivati alla quarta stagione di Ruoghi Misteri, viaggio che stiamo facendo insieme a Claudio Canistrà, esperto di astrologia, docente di astrologia, consigliere della Biblioteca de Bono di Bologna che ci fa un po' da luce trainante, da faro trainante. Claudio, nel corso delle prime puntate di questa quarta stagione, siamo andati a vedere, a curiosare anche su quello che ci dice questa guerra e che ci diceva la guerra con l'occupazione dell'Ucraina o il tentativo di occupazione dell'Ucraina da parte della Russia. E siamo andati a studiare il piano astrologico, il perché, siamo partiti dalla storia dell'Ucraina, cosa sulla quale secondo me erroneamente molti hanno sorvolato e siamo partiti dalla regina Olga, da tutto quello che è accaduto, dal fatto che Kiev e Mosca fossero due città della allora, parliamo intorno all'anno 1000, di quella che era l'Ucraina, che era il contrasto fra l'impero ottomano, fra quello che si stava espandendo in Europa e da muro fece, poi sappiamo che gli ottomani successivamente arrivarono fino alle porte di Vienna, però che fece da muro anche all'impero ottomano. Ma dal punto di vista astrologico abbiamo cercato di dare una spiegazione, però mancava in un certo senso per chiudere, come dico sempre io il cerchio, un'altra fase importante della storia di queste due grandi nazioni che sono a contrasto, perché occorre ricordare che l'Ucraina è una grande nazione, è tante volte in più dell'Italia come superficie, in chilometri quadrati, e ha più o meno gli abitanti dell'Italia in superficie di chilometri quadrati. E allora ci siamo chiesti e mi sono chiesto da dove si poteva partire e tu hai suggerito come data quella relativa alla rivoluzione. E' chiaro che, conoscendoti, lo studio riguarda molto quelli che furono i protagonisti di questo periodo, il luogo protagonista di questo periodo, perché non è l'unica rivoluzione che è avvenuta nei secoli, ricordiamo quella più eclatante, la rivoluzione francese. E magari mi chiedo, perché non c'è stata una rivoluzione in Inghilterra? Perché no? Perché più o meno le cose erano quelle, sì, ci fu una rivoluzione industriale, ma non una rivoluzione di quel genere. L'Inghilterra è nata, o la Gran Bretagna, da contrasti diversi. Diciamo che nel 1650 c'è stata la rivoluzione che hanno tagliato la testa a raccarlo in Inghilterra e c'è stato il famoso Oliver Cromwell, che ha fatto il dittatore. Veniva da un contesto diverso, se vogliamo, perché le famose dinastie, la Scozia, la Cattolica e tutto il resto. Però c'è un qualcosa, quindi ecco perché ho detto io, perché solo in certi luoghi e non in altri, c'è un qualcosa che lega in generale, poi arriviamo alla rivoluzione del 1917 che avvenne in Russia e che in un certo senso cambiò anche l'evolversi della guerra mondiale, perché la Russia si distorse il proprio sguardo dalla guerra perché era occupata in una guerra interna, in una guerra civile. Allora, diciamo una cosa, se vogliamo capire bene cosa stanno le motivazioni di Vladimir Putin rispetto a questa invasione, dobbiamo fare dei passi indietro, non basta guardare la storia dell'Ucraina, dobbiamo guardare un po' la storia dell'Unione Sovietica e quindi la storia della rivoluzione russa e bisogna guardare cosa c'era prima della rivoluzione russa, cioè il famoso impero zarista che ha avuto diciamo dei connotati particolari in tutta Europa ed è un impero che poi crollato all'improvviso proprio sotto i colpi della rivoluzione russa. Ecco perché dobbiamo fare dei passi indietro e dobbiamo capire che cosa hanno passato quei territori, perché il discorso è sempre un discorso energetico. Quello che succede in un territorio impregna quel territorio di quelle energie. Come abbiamo visto che l'Ucraina è stata sempre un campo di battaglia fra Polonia, la Svezia, i cosacchi, i russi, gli ottomani, così dobbiamo vedere, capire bene da dove viene tutto questo e da dove viene questo sogno che ha Putin di in qualche maniera ricostruire l'impero zarista in qualche modo e quindi questa grande madre russia che comunque era uno stato enorme e che aveva tutto diciamo così una serie di territori. Per capire questo dobbiamo secondo me rifarci al personaggio che è stato il discrimine prima della rivoluzione russa, e cioè l'ultimo zar Romanov, cioè Nicola II. Nicola II è un personaggio controverso in cui comunque c'è tanto mistero perché i suoi resti sono stati recuperati diciamo recentemente fra virgolette col DNA e poi praticamente prima era l'assassino, il regicida, cioè tutto quello che volete, tutto il male possibile, adesso è stato fatto santo, per cui voglio dire c'è un passaggio notevole da questo punto di vista. Cerchiamo di capire naturalmente con gli strumenti che io ho a disposizione, cioè la carta natale, capire che tipo di personaggio era questo, l'avete visto prima in quella divisa, diciamo così, di zar, il zar di tutte le russie. Ecco, poi dovremmo avere anche due foto che la regia ci manderà sicuramente, con l'incoronazione e la famiglia dello zar. Allora, lui intanto era, questa è quella dell'incoronazione, faccio notare lo sfarzo che c'è in questi due personaggi, lui è la moglie, diciamo così, che era tedesca, di origine tedesca, e che ha avuto un'influenza notevolissima sulla vita di Nicola, perché Nicola II veniva considerato tutto sommato una buona persona, solo che per una serie di motivi, per una serie di coincidenze, di situazioni, si lasciò prendere la mano dagli altri, da chi gli stava intorno. La prima da cui si lasciò prendere la mano fu la moglie. E certo, e poi quanto influenzò Rasputin? Rasputin arriva un po' dopo, però diciamo che lui, fin da quando salì al trono, lui aveva delle buone intenzioni, voleva, diciamo così, far sì che la Russia migliorasse, diventasse una potenza, come era stato suo padre, il suo padre è stato l'Alessandro, è stato un grande zar, che era buono, era considerato bene dal popolo. Succede che, il giorno stesso dell'incoronazione, lui per dare ascolto a suo zio, mi sembra, o suo cugino, insomma, praticamente tutto il popolo andava a San Pietroburgo per l'incoronazione. E lui praticamente ascoltò il suo parente, il suo zio, che era un personaggio un po' malefico, diciamo così, e praticamente fece sì che la piazza dove si svolgeva l'incoronazione non fosse recintata e non ci fossero cosacchi a sufficienza, non ci fossero guardi a sufficienza. Per cui il giorno dell'incoronazione è un massacro, è un massacro dei poveri contadini russi che sono andati lì, che lo vogliono acclamare, ma che poi, diciamo così, muoiono tantissime persone. Quindi il regno comincia così. Questo è già un bruttissimo segnale, perché comincia con un massacro di persone innocenti che erano andate poi a acclamarlo, perché erano i poveracci, i quali volevano mangiare, perché poi chiaramente c'era una festa, tutte queste cose qui. Questo deve fare un po' pensare. E questo non è che fosse proprio colpa di Nicola, nel senso che Nicola si lasciò trascinare dalle persone che aveva... Quindi quelli che l'avevano influenzato. Sì, quindi prima di tutte anche la... Allora, richiamandoci alla carta astrale che tu hai e che la regia poi ovviamente ci farà vedere, richiamandoci alla carta astrale, si nota il fatto che fosse una persona influenzabile? Sì, si notano alcune cose che sono interessanti. Questa è la carta appunto di Nicola II. La cosa interessante, lui nasce il 18 maggio 1868, chiaramente bisogna fare dei conti perché qui c'è il calendario giuliano che si trasforma in gregoriano, ma questo è già stato fatto in questa carta. Nasce vicino San Pietroburgo, dove stava la reggia, diciamo, del padre. La cosa interessante è che ci sono... Probabilmente è nato alle due e mezza del pomeriggio. Questo lo dice la principessa Radville, mi sembra, che era una parente che ha scritto una biografia. Quindi è abbastanza sicura, diciamo, quest'ora. Da qui cosa viene fuori? Viene fuori, prima di tutto, lì vedete a sinistra quella S, un ascendente bilancia. La bilancia è un segno che i due piatti in equilibrio e quindi già questo lo dice, vorrebbe sempre dar ragione a tutti e magari poi finisce per risultare antipatica o comunque di commettere degli errori. L'altra caratteristica è un toro, quindi una persona, perché è nato a maggio, è una persona molto testarda, quindi va avanti per la sua strada e non si rende conto. Il toro è un segno che ha un po' i paraocchi e quindi va avanti senza un po' rendersi conto della situazione. Soprattutto quello che si vede dalla carta, vedete là su in cima, dove c'è il 9, il Sole e Mercurio, che sono congiunti, però sono opposti a pianeta che è Saturno, che è quello in basso dove c'è S, quella piccola R in basso, quello è Saturno dove c'è il 3, no? Allora, cosa vuol dire avere una posizione Sole-Mercurio-Saturno? Vuol dire, prima di tutto, che si è molto indecisi, che si ha molta paura a prendere decisioni, anche se magari si può avere un'attitudine positiva, nel senso che si vuole fare le cose bene, eccetera, però si è molto indecisi e ci si lascia trasportare dalle situazioni, non si è pazienti e infatti lui commette, e si è anche un po' presuntuosi e orgogliosi. Infatti all'inizio del Regno lui commette una serie di errori, già da questo, come ho detto, a questo inizio. Per esempio, vuole ingrandire il Regno e dichiara la guerra al Giappone, e dichiarando la guerra al Giappone, mi sembra, nel 1905 subisce una battosta terribile, nella famosa battaglia di Tsushima, dove la flotta russa viene annientata praticamente, e quindi questo aggrava ancora di più le finanze, diciamo, e i problemi della Russia. Poi, per dire, aveva un ministro, un primo ministro, che era una persona saggia, e che voleva quindi cambiare lo Stato in maniera positiva, perché la Russia dovete pensare che c'erano ancora i servi della Gleba, quindi c'era tutta una struttura agricola particolare. Struttura medioevale. Medioevale, sì. Infatti il grande impero russo è proprio questo, in questo senso qua. E che succede? Succede che lui dopo un po' lo licenzia, questo, diciamo così, questo primo ministro, quindi fa degli errori sempre sotto la spinta della Zarina, sotto la spinta anche di questa moglie, molto invadente, molto ansiosa. Poi, poverino, possiamo dire, fra virgolette, ha avuto una serie di problemi. Se noi vediamo quell'immagine, la figura 3, dove c'è tutta la famiglia, lui ha avuto praticamente 5, 4 figli. 5 figli. E solo un unico erede massimo, quello che si vede lì in basso, ci vede solo il viso. Vedete, ci sono 4 figli e poi la Zarina a fianco. Questo figlio, siccome lui è imparentato con la famiglia inglese, Alexei, mi sembra, Alessio, è emofilico, quindi emofilia, che gli porta, perché era parente, lui è parente della regina Vittoria, cioè una parentela. E l'inglese, cioè la famiglia inglese, ha questo gene dell'emofilia. E questo figlio, diciamo, anche lui ha questa malattia. Quindi l'erede al trono, l'unico maschio che in qualche maniera è malato. Cosa vuol dire emofilia? Che quando ti fai un taglio, l'emorrigia non si frena, perché il sangue non coagula, perché mancano dei componenti della coagulazione. Quindi potete pensare a questo dramma. La moglie invece, che era molto cattolica, fervente, che cercava di trovare sistemi per cercare di guarirlo, e quindi i medici a corte, situazioni del genere. Quindi già questo fa pensare a un regno, diciamo così, a un personaggio che ha tanti pesi, tante cose che non è in grado di reggere. Già questo ti fa riflettere su questa cosa, no? Cosa succede? Succede che, quindi, commette una serie di errori durante l'inizio del regno, in buona fede, o non sappiamo, perché poi la storia si può leggere in tanti modi. arriviamo però al momento clou, al momento clou, quando dichiara la guerra all'Austria-Ungheria, con, diciamo così, l'appoggio della Francia e dell'Inghilterra, perché lui era parente, diciamo così, con la regina Vittoria, quindi con l'Inghilterra. Che succede? Succede che è un disastro, perché l'esercito non è preparato, e quindi i russi vengono mandati al macello, queste truppe vengono mandate al macello, e quindi questo crea ulteriore malcontento, crea un'ulteriore problematica, diciamo così, rispetto già a una situazione interna, finanziaria, è una popolazione che comunque è molto povera, molto, molto povera. Sono tutti i contadini che sono servi ancora della gleba, sì, va bene, poi dopo istituirà, darà il terreno ai contadini, però dopo un bel po' di tempo, quindi, insomma, questo suo immobilismo, diciamo così, questo fatto di non fare le cose al momento giusto, quando sono necessarie, questo nella sua carta si vede molto, molto bene. E quindi è la carta astrale, a questo punto, che ci dice quello che poteva accadere e che in realtà è accaduto. Un'altra cosa che ci dice la carta astrale, lui è una luna molto forte, molto potente, ma messa molto male, quella che voi vedete lì a destra, dove c'è SDS, quella falce, quella è la luna, vedete quanti segni rossi c'ha, è quadrata a Urano, è quadrata a Venere, è congiunta a Giove, eccetera, questa è l'influenza della moglie, congiunta a Nettuno, la moglie che era molto ansiosa, molto cattolica, molto, come dire, però di una devozione un po' troppo esagerata e che li crea una serie di problematiche, non ha accanto una donna forte che lo aiuta, diciamo così. D'altra parte, lui era innamoratissimo quando si dice che uno si sceglie il destino, lui era innamoratissimo di questa parente, perché era anche sua parente, forse una mezza cugina, e l'ha voluta fin da piccolo, quindi in qualche maniera è come un destino che si deve compiere, ecco, da questo punto di vista. Ecco, il fermento quindi comincia e nasce dal popolo, ovviamente. Dal popolo e nasce già praticamente dal giorno della sua incoronazione, a causa di questi fatti che accadono, che contribuiscono a mettere in cattiva luce lo zar. E poi, mal consigliato, lui continua comunque ad ignorare quelle che erano le esigenze di un popolo che in ogni caso, anche se ancora non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, però comunque contatti avvenivano e si rendeva conto magari di come era la situazione per il popolo in altre nazioni. E quindi il fatto di sentirsi come abbiamo detto nel Medioevo, in pratica, cioè servi della gleba, non contribuì certo a far nascere l'armonia fra il popolo e i governanti. Diciamo due cose. Uno, ci fu un primo segnale nel 1905 quando ci fu una sorta di insurrezione nella base navale, in una base navale, però poi chiamò le guardie e riuscì a bloccarla. Quello è già un segnale. Quello che succede però che nel 1917... Il segnale forte è quello dello sciopero del 1917. Diciamo così, noi la chiamiamo, poi ne parleremo dopo, rivoluzione d'ottobre. In realtà le rivoluzioni sono due. Ce n'è una a febbraio, quella di cui parliamo adesso, in cui c'è la caduta proprio dello Zara e poi ci sarà quella di ottobre. Parliamo della prima... Diciamo la spallata definitiva. Sì, diciamo la prima a febbraio. A febbraio dobbiamo fare una piccola riflessione. Intanto c'è questa guerra in corso. Ci sono queste armate russe che contro i tedeschi e gli altriungarici stanno prendendo delle sconfitte una dietro l'altra. Lui cosa fa? E poi c'è anche questo fermento lì a Palazzo. Lui cosa fa? Invece di pensare alle situazioni che ci sono del popolo in quel momento, lui va a cercare di rincuorare le truppe col treno reale e va quindi sul luogo di battaglia vicino alla battaglia. In questo periodo questo avviene proprio a febbraio a febbraio quando c'è il primo sciopero della fabbrica Putilov si chiama le fabbriche Putilov che sono le prime ecco qui dovrebbe essere un'immagine quella che vediamo è una delle immagini proprio il primo sciopero che c'è che è il 18 febbraio cioè sarebbe il 2 marzo col calendario gregoriano 18 febbraio giuliano diciamo è il primo sciopero diciamo così e lui quando gli mandano questi messaggi per Telex di quello che sta succedendo a San Pietroburgo Pietrogrado allora si chiamava Pietrogrado lui fa orecchio da mercante dice ma no ma tanto non c'è problema non c'è da preoccuparsi quindi è proprio da quel punto di vista lì completamente chiuso completamente ottuso non si rende conto del baratro a cui lui sta cadendo cadendo siamo al 2 di marzo e in poco tempo le sollevazioni aumentano anche i cosacchi che sono praticamente le truppe reali quelli che aiutavano si sollevano anche loro quindi l'esercito si solleva e sta col popolo quindi questo è già un segnale da preoccuparsi e lui non fa nulla non fa nulla fino all'ultimo fino all'ultimo rimanendo in questo treno aspettando le notizie dicendo ma no nel suo diario scrive che ha giocato a scacchi la dama quella sera lì senza preoccuparsi di quello quello che in realtà sta accadendo quindi è completamente una follia diciamo così quindi c'è questo primo sciopero a febbraio 17 poi dopo nella figura 4 cioè nell'immagine 4 i bolshevichi che sono i comunisti vanno in piazza ecco vedete queste sono immagini originali dell'epoca vanno in piazza e quindi ci sono le prime manifestazioni i primi morti e la cosa continua ad andare avanti tutto diciamo così tutta la metà del mese di febbraio da questo punto di vista cosa succede? succede che in poco tempo nel giro di una settimana la situazione precipita la situazione precipita e lui essendo lontano anche dalla corte chiaramente non ha modo di poter intervenire con la sua presenza o in qualche maniera per cui alla fine gli viene consigliato di abdicare per salvare la vita perché lui pensava abdicando di salvare la vita questo avviene nel giro di 24 ore abdica in favore mi sembra del fratello e il giorno dopo anche il fratello abdica a quel punto lì praticamente l'impero russo si è sfasciato si è sfasciato e lui viene fatto prigioniero con tutta la famiglia reale quindi a questo punto la situazione si evolve in pochissimo tempo nel giro di pochi giorni dobbiamo fare però qui una piccola riflessione dobbiamo parlare degli aspetti astrali perché se no non ci vediamo tanto allora da cosa dipende questa cosa perché poi ci sarà utile per capire anche l'unione sovietica in questo momento ci sono degli aspetti fra due pianeti lenti che sono Saturno e Nettuno in cielo e il ciclo dell'unione sovietica il ciclo dei Romanov e il ciclo dell'impero zarista ma in generale di tutta la Russia è legato a degli aspetti fra questi due pianeti Saturno e Nettuno cosa voglio dire non sto a farla lunga nel senso che i Romanov vanno al potere intorno al 1613 mi sembra con un aspetto Saturno e Nettuno i pianeti lenti ci mettono del tempo per fare il giro in questo periodo in cui c'è questa prima rivoluzione di febbraio ci sono di nuovo in cielo una congenzione Saturno e Nettuno vedremo che questi aspetti Saturno e Nettuno sono collegati alla Russia quindi sono legati anche al destino di Putin e al destino diciamo della Russia moderna c'è una relazione simbolico analogica fra il ciclo di questi due pianeti che ci mettono 35-36 anni a fare un giro diciamo per congiungersi di nuovo per essere di nuovo attaccati è il destino della Russia e la foto che ecco questa foto è la foto di Nicola II questa è una foto molto triste molto triste perché qui lui è già stato esiliato portato a Ekaterinburg perché prima rimane un po' chiuso nel palazzo reale dopo quando c'è diciamo così i bolshevichi prendono il potere lo portano lontano in modo tale che proprio sia lontano dal potere lo tengono prigioniero questa foto è particolare perché perché c'è lui che è seduto su un tronco d'albero vedete e dietro ci sono quei tre militari quelli sono famose guardie rosse che lo tenevano prigioniero se voi vedete in viso ha un viso molto triste molto non è sicuramente ed è rimasto così fino al 1918 praticamente è rimasto prigioniero un anno fino a 16 luglio 1918 quando poi verrà ucciso dai bolshevichi quando però diciamo che i rossi prendono il potere quindi ci sono tutta una serie di cose e improvvisamente decidono di assassinare tutta la famiglia e questo è un altro atto violento perché arrivano di notte il 16 luglio del 1918 dove lui sta li fanno alzare li fanno vestire tutti quanti i figli i cuoco il medico le dame di compagnia eccetera li fucilano a sé stante un momento poi addirittura tagliano i corpi a pezzi li fanno bruciare e li buttano via infatti dopo il grande mistero che c'è qua è Anastasia non solo Anastasia sono i resti perché ritrovare i resti dello zar ci vorrà del tempo poi con delle prove al giorno d'oggi del DNA hanno trovato che quei corpi buttati in quella discarica a Katerinburg che credo sia un posto lontanissimo verso la Siberia sono in realtà il DNA dello zar e quindi questa cosa dopo diciamo dopo cento anni dalla morte verrà richiamata e gli saranno andati dei funerali a questi resti che ormai sono resti dei funerali di stato questo proprio cento anni dopo e questo lo farà Boris Yeltsin quindi presidente dell'Unione Sovietica con dei funerali di stato e verrà tumulato mi sembra la catena di San Paolo mi sembra e rimane comunque il famoso mistero di Anastasia che pare che invece sia stata salvata da uno sguattero in un cunicolo aiutata per riuscire a salvarsi ma qui andiamo diciamo andiamo nella leggenda la cosa interessante è che prima dai bolshevichi era considerato un assassino in realtà aveva fatto degli errori politici notevoli e dopo nella nuova iconologia è considerato un santo infatti nell'immagine 6 abbiamo abbiamo una foto che è successiva successiva a quella di Nicola prigioniero questa è l'icona di San Nicola San Nicola secondo zar che è diventato praticamente per i russi un santo perché dopo cento anni si è riconosciuto che tutto sommato è stato ucciso ma non è che il re senza processo venne ucciso senza processo semplicemente il commissario arrivò lì gli fece una foto e gli disse l'atto che era stato condannato a morte e lo uccidono subito perché chiaramente i bolshevichi avevano paura che la sua figura potesse come dire intralciare quella che era la loro ascesa al potere erano già ascesi al potere però la definitiva ascesa al potere in realtà perché in quel momento c'era la guerra fra rossi e bianchi cioè fra zaristi e comunisti diciamo così oggi al giorno d'oggi li chiameremmo così questo punto di vista quindi la figura dello zar aveva comunque una certa importanza e siamo arrivati alla fine della prima parte però io vorrei che la regia ci facesse vedere l'immagine successiva che abbiamo a quella ecco questo chi è? questo lo serve per introdurre la seconda parte è ovvio è ovvio questa è un'immagine giovane da giovanissima di Lenin quando perché Lenin era antizarista quindi era scappato durante il regime zarista era scappato in Svizzera è rimasto in Svizzera tanto tempo e si era come dire camuffato un po' vedete che ha i capelli lunghi qui è molto molto giovane e quindi si era camuffato ed era rimasto per tanto tempo lì e lì faceva propaganda bolscevica perché lui era un bolscevico diciamo che era un esiliato è un esiliato come lo fu Mazzini ai tempi della Repubblica sì perché diciamo che lo zar non è che andasse per il sottile è chiaro che tutti quelli che erano contrari venivano esiliati o venivano ammazzati cioè non è che fosse il regime non era comunque un regime democratico questo dobbiamo tenere presente quello è fuori di ogni dubbio allora con la foto di Lenin ci riapriremo la seconda parte di questa puntata che dedichiamo al momento della rivoluzione russa della nascita delle repubbliche socialiste sovietiche e alla carta astrale perché ricordiamo che non è il nostro compito quello di fare gli storici e non lo siamo solo curiosi di storia e però quello di cercare di dare se si può una spiegazione nata naturalmente studiando gli astri possiamo aggiungere una piccola cosa che dopo lo vedremo la carta astrale della nascita dell'Unione Sovietica ha delle incastri particolari con la carta di Putin questo è anche un po' mistero che ci porta ai giorni ai giorni nostri e al perché di questa puntata di luoghi e misteri dedicata a questo argomento a tra poco un po' di più di più di più di più di più Ben trovati, ben trovati. Abbiamo chiuso la prima parte con la foto di Lenin giovane per andare ad esplorare quello che è accaduto di conseguenza a tutto quello di cui abbiamo parlato nella prima parte, cioè lo zar Nicola II che viene fatto prigioniero e da lì comincia, dopo le prime sommosse di febbraio del 1917, comincia a muoversi il popolo alla ricerca di quella che ovviamente per il popolo era la libertà dalla tirannia degli zar. Sì, diciamo che molte sollevazioni sono state anche un po' obbligate per la miseria che c'era, quando le fabbriche cominciano a scioperare è chiaro che a chiudere i battenti la gente va in piazza, però quello che è interessante è che dal 2 marzo, data gregoriana, al 15 marzo, il 15 marzo del 1917 è l'abdicazione allo zar, quindi praticamente in due settimane neanche, in 13 giorni, si completa tutto. Cioè lo zar abdica, il giorno dopo abdica anche il gran duca Mikhail e dopodiché c'è l'arresto della famiglia imperiale, a quel punto lì c'è un governo provvisorio. Ecco, cosa succede? Torniamo allora un po' indietro, siamo a marzo 2017, quando Lenin viene a sapere questa cosa, Lenin in Svizzera, cerca di arrivare subito in Russia. Tornare, certo. Solo che la cosa curiosa è che nessuno lo vuole, nel senso che i tedeschi, che gli occidentali non lo vogliono perché sanno che lui è un bolshevico, un comunista, quindi non gli danno il transito, lui aveva probabilmente un passaporto russo. Chi lo aiuta? Lo aiutano i tedeschi. Perché lo aiutano i tedeschi? Gli danno un treno per poter arrivare fino in Russia, perché i tedeschi sono in guerra con i russi e quindi pensano se la Russia crolla, noi facciamo la pace e noi ci liberiamo il fronte orientale in qualche maniera. Quindi lui in un primo tempo ha difficoltà a tornare in Russia, poi con l'aiuto dei tedeschi lui va su un treno e in aprile, all'inizio di aprile, quando già la situazione c'è un governo provvisorio, quindi diciamo che qualcuno arriva alla stazione di Petrogrado, si chiamava così una volta, cioè San Pietroburgo, e arriva alla stazione di San Pietroburgo e quando arriva la folla lo accoglie, ci sono tutti i suoi sostenitori, questo crea chiaramente un pandemonio ulteriore e fa sì appunto che ci sia ancora più scompiglio di quello che succede. E quindi lui comunque dopo, tutti i suoi, lui e Trotsky, cosa fanno? Cerchiano di mobilitare il popolo, di mobilitare l'esercito, di mobilitare tutti, in modo tale da rovesciare quella specie di piccolo governo provvisorio che si era creato, diciamo così. E che succede? Succede che arriviamo all'estate, all'estate del praticamente 1917. 1917. La cosa interessante da un punto di vista astrale è che il primo agosto 1917 Saturno e Nettuno si congiungono in cielo. Ecco, arriviamo noi. Questo è da un punto di vista astrale, quei due pianeti che abbiamo detto che governano la Russia o che in qualche maniera sono legati ai cicli storici della Russia, dall'inizio, diciamo così, dalla dinastia del Romano, sono congiunti in cielo, a indicare quindi che è un momento di passaggio. Faccio una piccola parentesi. Tenete presente che questi due pianeti si ricongiungeranno intorno al 2026 e sarà il momento in cui probabilmente ci sarà quel cambio in Russia o 2025-2026 che magari una parte del mondo si attende per un cambio totale della Russia. Questo diciamo che è matematico. Ogni volta che questi pianeti si sono congiunti abbiamo avuto la caduta del muro di Berlino, abbiamo avuto la morte di Stalin nel 1953, poi appunto nell'89 la caduta del muro di Berlino, come nel 1917 abbiamo avuto la rivoluzione russa. Questo è un segnale che è incontrovertibile. Io non posso sapere che direzione prenderà la Russia, però sicuramente... Ma qualcosa di clamoroso, di eclatante ci sarà. ...di eclatante in quegli anni lì ci sarà. Torniamo invece al passato, no? Allora, in agosto del 1917 c'è praticamente le famose giornate di luglio, siamo inizio di agosto, del calendario gregoriano, perché i russi parlano di rivoluzione di ottobre, in realtà per noi sarebbe rivoluzione di novembre, perché ci sono i 13 giorni del calendario. C'è un po' di discrepanza fra un calendario e l'altro. Giuliano e Gregoriano. Certamente. E quindi cosa succede? Succede che ci sono un'altra serie di scioperi. C'è un'altra serie di scioperi che sono stati in qualche maniera ispirati dai bolscevichi, perché a questo punto Lenin e Trosti sono tutt'uno con i bolscevichi, e quindi c'è un colpo di stato fallito di un generale che si chiama Kornilov, quindi il governo cade e mettono come governo questo Kerensky, questo Alexander Kerensky che era un avvocato e che era un personaggio equilibrato, nel senso che era stato contro lo Zarra, era stato molto tempo contro lo Zarra, ecco qui lo vedete nel suo studio, che poi diciamo era stato esiliato e aveva avuto un ruolo di primo piano nella caduta del governo zarista, degli Zarra, quindi era un personaggio super partes, possiamo dire, al giorno d'oggi. Lui fa un governo, però, e qui siamo in agosto del 1917, dopo questo tentativo di colpo di stato. Questo Kerensky è un personaggio interessante, molto particolare, molto particolare cosa voglio dire, vuol dire che dopo scapperà quando finirà, e scapperà a New York e vivrà tantissimo fino al 1970, muore nel 1970, quindi farà delle conferenze, spiegherà un po' la situazione, quindi ci sono dei diari, ci sono delle cose che chi è interessato può andarsi a leggere. Però diciamo che la Russia sembra aver trovato un equilibrio, a questo punto, perché lui stabilisce le regole e la data per fare delle elezioni presidenziali e per fare un'assemblea costituente, come si fa normalmente in una democrazia, come si dovrebbe fare. Però a quel punto lì i bolshevichi, cioè Lenin e Trotsky, si convincono che forse possono prendere il potere con la forza, e quindi non si accontentano di avere un governo con delle elezioni normali, con una maggioranza, un'opposizione e così via. E quindi preparano un colpo di stato, in qualche maniera. Colpo di stato in cui loro hanno dalla parte sicuramente l'esercito, hanno dalla parte il popolo, hanno dalla parte i lavoratori delle fabbriche, quindi hanno tutta una serie di, come dire, di strutture che sono dalla loro parte. Questo colpo di stato è la famosa rivoluzione d'ottobre, cioè la famosa rivoluzione russa, che praticamente avviene in due giorni. Questa è l'altra cosa curiosa, questa cosa della rapidità degli eventi, un po' come è successo per la caduta del muro di Berlino. C'è la rapidità di un evento che cambia il mondo dal bianco al nero e lo stravolge, perché dopo la Russia non sarà più così per cento anni. Non sarà più la stessa. Comincia tutto la notte del 24 ottobre, cioè 1917, ovvero il 6 novembre. Questo è l'incrociatore Aurora. Sì, questo è l'incrociatore Aurora, che aveva partecipato alla famosa battaglia di Tsushima contro i giapponesi. Questa è importante, questa nave, perché questa nave è la nave che darà l'inizio, perché la marina era bolshevica, diciamo, era per i bolshevichi, e sarà la nave che darà il colpo di cannone per tutti, per incominciare, diciamo così, lo sciopero totale e per prendere d'assalto il famoso palazzo d'inverno, che è il palazzo del governo, dove c'erano tutti, diciamo così, i dignitari. Questo incrociatore Aurora è interessante perché è quello appunto che il colpo sparato dal suo cannone dà il segnale per la presa del palazzo d'inverno a San Pietroburgo, palazzo d'inverno che viene preso il giorno dopo. Il 24 c'è i primi scioperi, il 25 c'è la presa del palazzo d'inverno e la notte. Questa è proprio un'immagine dei bolshevichi che stanno appunto di fronte al palazzo d'inverno e cercano di conquistare il palazzo. Il palazzo viene preso in due ore e tutti, diciamo, tutti quelli che erano dentro, i membri del governo, quindi Kerensky fa in tempo a scappare, scappa in Finlandia e poi andrà negli Stati Uniti perché aveva capito che comunque non c'era nulla da fare. Gli altri o vengono uccisi o vengono fatti prigionieri e quindi praticamente… Diciamo passati per le armi. Sì, sicuramente qualcuno si salva, adesso io questo non l'ho studiato a fondo, però ci sono un paio di immagini che si vedono appunto questi rivoluzionari all'assedio del palazzo d'inverno. E questo invece è un altro personaggio importante. Questo fa parte del discorso prima, però questo assedio, la cosa interessante è che possiamo dire che la democrazia finisce in due giorni. Ecco, questa è un'altra immagine, palazzo d'inverno che è la sede del governo e ci sono i militari, i quali praticamente a quel punto lì siamo a Pietrogrado, cioè San Pietroburgo o Leningrado, non dobbiamo dimenticarlo, che era la capitale perché era la sede dove c'era Pietro il Grande, lo zar, quindi diciamo così è sempre stata la capitale per lo meno psicologica della Russia e quindi viene assolutamente preso e questo, in questo momento, può essere considerato, viene alle due di notte, in due ore conquistano questo palazzo. Questa è la cosa stupefacente. Qui nasce praticamente la nuova Russia in qualche modo. Ricordiamo che in questo momento lo zar ancora vivo è prigioniero, è prigioniero ancora nel suo palazzo, dopodiché quando i bolshevichi prendono il palazzo d'inverno verrà praticamente trasferito a Ekaterinburg, cioè in Siberia. Però questo è il momento punto chiave, diciamo così. Dopo poi ci saranno, cosa c'è? C'è la guerra civile, perché ci sono i partigiani della Repubblica, i bianchi o anche dello zar, diciamo così, i repubblicani, chiamiamoli così, e i bolshevichi rossi, cioè le famose guardie rosse. E quindi c'è una guerra civile che dura due anni. Succede che la Russia ha tutta questa, ancora la guerra, siamo nel 117, c'è ancora la guerra. Quindi le truppe vengono massacrate e nello stesso tempo, come dire, fanno delle insurrezioni, quindi scappano via. Quindi la Russia chiede subito la pace, i bolshevichi chiedono subito la pace, il famoso trattato di Brest-Litovskio nel 1918. Beh, è quello che in un certo senso la Germania aveva sperato, no? Dando un aiuto a Lenin perché succedesse questo. E poi succede quello... La Russia si ritira dalla guerra. Succede quello che è successo nell'89, con la caduta del muro di Berlino. Tutti questi stati diventano indipendenti, cioè la Lituania, l'Estonia diventano indipendenti, l'Estonia diventa indipendente, la Finlandia diventa indipendente, l'Ucraina si stacca. Cioè ci sono tutti questi, diciamo, addentellati che per un po' di tempo... Di tempo. Sono su movimenti. Però è questo quindi al quale si ralascio poi tutto. Attenzione, non siamo nell'anno 1000 ai tempi della regina Olga, siamo già nel XX secolo. E quindi da qui forse si può capire e si può cominciare ad interpretare anche il germe un po' di quello che è maturato poi ultimamente. Quello che è interessante da far riflettere è che la storia si ripete. Quando a novembre l'89 c'è la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica c'è la stessa cosa. Quindi loro, non è che succeda la stessa cosa, loro reclamano la loro indipendenza così come l'avevano reclamata allora e così come storicamente si sentivano. Sì, perché alla fine... Perché erano popoli soggiogati comunque, no? Beh, se non soggiogati avevano una loro identità. Perché i finlandesi non sono gli ucraini, i lituani sono i russi, cioè hanno magari delle somiglianze di lingua, però non sono la stessa cosa. Certamente. E quindi è un po' quello che si ripeterà. Però c'è da dire ancora due cosine da dire. Uno, che c'è un periodo di interregno terribile in cui ci sono morti, massacri, quello che aveva annunciato la Madonna di Fatima in qualche maniera, che se non si consacrava alla Russia, non si affidava alla Russia, alla Vergine, diciamo questa eresia si sarebbe sparsa dall'Istituto dell'Europa e avrebbe perdurato. Questi due anni, dal 1917 al 1922, è un disastro. A parte che viene ucciso lo Zara nel 1918, però comunque è un disastro per la Russia, nel senso che i contadini, per esempio, a cui lo Zara aveva dato la terra, vengono considerati dai bolscevichi dei possedenti terrieri e quindi vengono arrestati in galera. Poi si formano le prime cooperative. Che non erano altro che contadini. Sì, che avevano avuto la terra, però siccome potevano avere dei mezzadri, allora in qualche maniera erano considerati espressione del potere. Quindi tutte queste leggi che vengono fatte... Erano diventati in poco tempo una sorta di quelli che erano i vassalli del Medioevo. Sì, praticamente sì, insomma. E quindi, e quello che è interessante è che Tust dura fino al 30 dicembre 1922, quando nasce l'Unione Sovietica. Questa è la data canonica, quando Lenin praticamente fa un discorso al Parlamento, dove praticamente dice che è nata l'Unione Sovietica, si è ripresentata. Questa dovremmo avere la carta astrale, dovrebbe essere la carta numero 14, e dove qui, in questa carta, ci sono tutta una serie di elementi che ci richiamano sia la carta, perfetto questa, sia la carta di Putin, che sia la carta in generale di Nicola II, e sia soprattutto, diciamo così, quello che è interessante è per esempio l'ascendente che sta nel seno della Vergine, che se voi vi ricordate abbiamo già visto in altre carte precedenti. Poi c'è l'Unione a Mediocello fortissima, in Toro, poi c'è una vera di Scorpione, che è la stessa vera di Scorpione che ha Putin. Quindi questo legame con, diciamo così, con la Russia dell'Unione Sovietica... Se vogliamo tradurlo in parole semplici, fra il vecchio e il nuovo. È molto potente nella carta di Putin. Poi chiaramente c'è una casa settima là sulla destra, in Pesci, dove c'è Marte e Urano, che sono due pianeti violenti, che sta a indicare la nascita del paese, perché il paese è come un'entità, da una rivoluzione, perché Marte è la guerra, Urano è il cambio totale, il taglio delle teste, Urano è la rivoluzione. Quindi nasce dalla rivoluzione e porterà dietro tutta una serie di rivoluzioni. Basta pensare che Lenin farà morire poi Trotsky, ammazzerà Trotsky in Messico. Quindi quelli che sono tutti coloro, i vecchi, che hanno, diciamo così, partecipato, i vecchi bolshevichi che hanno partecipato alla rivoluzione russa, verranno poi tutti uccisi, perché ci saranno le famose purghe, che poi prima Lenin, poi Stalin. Uno dei motivi, e questo andrà avanti finché esisterà l'Unione Sovietica, poi ci sono, diciamo, tutte le varie repubbliche che diventano indipendenti, e l'importante è che il 30 dicembre 1922, a Mosca alle ore 20, le cinque repubbliche principali decidono di unirsi. A queste cinque repubbliche, per cui c'è la Russia, l'Ucraina, eccetera, si uniranno poi le altre, e quindi ecco perché Unione Sovietica delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il corretto, diciamo, termine è questo. Si riuniranno tutte queste repubbliche, che noi consideravamo con l'acronimo URSS, no? Quando parlavamo della Russia. Si uniranno e praticamente questo, diciamo così, questo periodo durerà fino al 1989, quando arriva Gorbaciov, che cambia la situazione. Però prima di allora, cosa succede? Succede che per esempio negli anni 40, un po' prima, nel 38, Stalin, che succede a Lenin, diciamo così, ricordo fra l'altro che il padre di Putin è stato il cuoco di Lenin e di Stalin. Di Stalin. Questa è un'altra cosa che lega un po', psicologicamente, perché comunque il cuoco è anche una persona di fiducia, perché si può avvelenare. Sì, è certo. La cosa interessante è che Stalin, proprio perché aveva paura dell'esercito, farà decapitare e uccidere tantissimi generali dell'esercito russo, perché aveva paura negli anni 38, nel 39, che questi potessero fare un colpo di Stato o qualcosa. Questo è uno dei motivi per cui, quando Hitler invade la Russia, la Russia all'inizio non riesce a reagire, perché praticamente tutte, diciamo così, le alte gerarchie sono state uccise, i grandi generali che avevano, sono stati uccisi, e quindi non sono in grado di resistere all'invasione italiana. Gli serve un po' di tempo per riuscire a recuperare. È un po' quello che in qualche maniera è successo anche in questa guerra per l'Ucraina, che molti generali sono morti e l'esercito russo si è trovato un po' senza, diciamo così, senza quadri. Decisionisti. Senza quadri, perché loro penso che non abbiano i quadri intermedi, tipo i sergenti, i marascialli. Quindi o il generale va a controllare, con il generale supposto, e quindi magari poi viene anche ucciso. Quindi c'è una struttura che in qualche maniera si ripete, è una situazione che in qualche maniera si ripete. E quello che è interessante è che finché non arriverà Gorbaciov, la situazione rimarrà così. C'è solo Gorbaciov che in qualche maniera darà una svolta. Poi c'è la spallata e adesso c'è il tentativo di ricostruire questa cosa. Ormai è palese, questo non siamo certamente noi a dire questo. C'è un'altra cosa, se abbiamo due minuti vorrei far vedere, per terminare. Le carte numero 12, la figura numero 12, sono le famose, perché ecco, perfetto, sono le famose uova Fabergé. Ah, sì. Queste sono famosissime, sono delle reliquie, ne sono state fatte 52 soltanto. Fabergé era un orafo, uno scrittore. Questi erano i regali, per far capire il personaggio, che Nicola II faceva alla moglie. Sono preziosissimi, se qualcuno va al Museo di Leningrado li può vedere, costano una marea. Sono tempestati di smeraldi, di diamanti, di brillanti. Poi dentro si aprono, guardate questa, dentro si apre, c'è il palazzo d'inverno, c'è il palazzo... Sono una sorta di carillon. Sì, sono proprio, dentro si aprono, sono uova, le uova Fabergé si chiamano, sono uno spettacolo, perché sono in porcellana, sono particolarissime, hanno tutte queste decorazioni che sono rarissime. Lui le regalava alla madre, per Natale, o per Pasqua, le regalava, guardate anche questo, le regalava, diciamo, alla moglie, le regalava ai familiari. Questo per dirvi che personaggio che era, insomma. lui pensava a queste cose, poi magari lo Stato andava per i fatti suoi, ecco. E' certo. Insomma, siamo arrivati alla fine della nostra storia, no? E abbiamo cercato, come al solito, di leggere il tutto con una chiave astrologica. E l'astrologia, Claudio, per chiudere, ci dice che potrebbe avvenire qualcosa di rivoluzionario, detto fra virgolette, non nel senso di moto del popolo con le armi e tutto, ma di rivoluzionario comunque intorno al 2025-2023. Sì, io posso fare solo un discorso storico, la storia mi serve per questo. Se io vado a vedere questi cicli fra Saturno e Nettuno, io vedo che i Romano sono saliti al potere nel 1613, in cui c'era un aspetto Saturno-Nettuno in cielo. Ricordo che sono pieni tilenti, quindi ci mettono del tempo. Quindi prima di congiungersi passano degli anni. Poi posso dire che nel 1848, quando Marx pubblica il manifesto, c'è un aspetto Saturno-Nettuno. Poi posso dire che tutti i momenti chiave della storia della Russia, ci sono sempre gli aspetti Saturno-Nettuno. Alle volte più potenti, alle volte meno potenti. Un aspetto Saturno-Nettuno c'è nella rivoluzione russa, abbiamo detto, 17-18, sul punto 17. Un altro aspetto Saturno-Nettuno fondamentale è la morte di Stalin nel 1953, perché tutte le purghe che ha fatto Stalin e quindi c'è un cambio, perché viene Khrushchev, cambia la situazione. Un altro aspetto Saturno-Nettuno c'è nel 1989, caduta del muro di Berlino. Il prossimo aspetto Saturno-Nettuno sarà praticamente il 2025-2026. Questo cosa deve far pensare? E questo aspetto riguarda sicuramente la carta di Putin. Vuol dire che comunque ci sarà una trasformazione. Teniamo presente che Saturno è la rigidità. Nettuno, perché è un po' lo spirito, è anche l'ideologia, anche però l'idealizzazione. Quindi sono momenti in cui la rigidità si lega con l'idealismo. Quindi sicuramente ci sarà una trasformazione in Russia. Non credo prima, può anche capitare prima, però sarà per la Russia un momento molto, molto importante. Poi non è detto che sia per forza negativa. No, vabbè. Gli spettatori non devono pensare che c'è l'aspetto in cielo o succedono dei disgrazi. No, delle volte può essere... Come abbiamo detto, un cambiamento, una trasformazione. Qualcosa comunque di importante si vede nel cielo della Russia nel 2025-2026. Poi ripeto, Putin dalla sua carta potrebbe anche avere delle difficoltà prima. C'è chi dice per esempio che è malato. Alcuni astrologi hanno studiato la sua carta, non so quanto sia vero, io non sono un esperto di astrologia medica, dicono che comunque sembra avere un Parkinson o qualcosa di similare, perché questo modo di camminare un po' rigido e questo fatto che sembra che abbia preso del cortisone potrebbe far pensare a questa cosa. Però con illazioni non ci possiamo mettere su questo. No, noi ci fermiamo ai pianeti. Sì, infatti. E certo. Così come ci fermiamo, perché siamo arrivati alla fine anche di questa tappa. Nelle prossime? Beh, nelle prossime ritorneremo a parlare un po' di medianità, di cose, no? Sei d'accordo Claudio? Sì, pensavo anche di parlare un po' di medianità e poi anche di musica un pochino. Va bene. Allora, questa è l'ennesima tappa di luoghi e misteri. A voi tutti, buon proseguimento di trasmissioni e alla prossima tappa. La prossima tappa Grazie.